salve e benvenuti nel canale oggi vi farò vedere cos'è arrivato praticamente questo pacco ordinato da barò la particolarità di questo pacco è che pratica io non ho pagato nulla ho pagato solo la spedizione di 7 euro e 90 la spedizione è stata abbastanza veloce soli due giorni mi è arrivato il pacco allora questo è il libricino dove vi mostrano vabbè le origini del territorio tutte le caratteristiche gli ingredienti dei prodotti e poi vabbè ci sono tutti i prodotti che loro trattano tutta la linea allora andiamo a vedere cosa che ho ordinato che non lo ricordo nemmeno io allora arriva tutto in questo sacchettino dove all'interno c'è il prodotto allora questo qua in pratica è uno snellente rimodellante con estratti di semi d'uova biologico eccolo qua si presenta in questo modo qua 150 ml questo qua in pratica veniva a costare vediamo subito troppo la pagina eccolo qua veniva a costare 43 euro però come già vi ho detto prima io ho pagato solo i costi di spedizioni di 7 euro e 90 vabbè questo è un foglio verrà ecco mi hanno mandato ora qualche altra cosa mi hanno mandato un biglietto al parco divertimenti cine città world un biglietto omaggio insomma io penso che la linea è buona ho già visto altre cose e mi sono trovata benissimo ho preso un siero per i capelli che costava 38 euro anche quello l'ho pagato solo 7 euro e 90 e adesso proverò anche questo vabbè spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo col prossimo ciao 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 Grazie a tutti.